TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Procedura esecutiva numero 245 del 2010, lotto unico Appartamento ad uso abitazione al piano terzo, composto da ingresso, soggiorno, cucina, bagno e camera da letto, con annesso vano di cantina al piano cantinato Sito in via Montebello, 22, Solviate Arno Prezzo base, 24.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 28 febbraio 2017, ore 16.30 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21052 Viale Cadorna 7 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono, 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 329 del 2013, lotto unico Negozio posto al piano terreno costituito da un locale e servizio, superficie catastale metri quadri 72 Sito in piazza Sandro Pertini, 109, Caronno Pertusella Prezzo base, 71.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 8 febbraio 2017, ore 15.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21052 via San Francesco 6 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono, 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 373 del 2014, lotto unico Appartamento posto al piano primo di fabbricato di corte, composto da ingresso, locale pranzo soggiorno con angolo cottura e bagno Sito in via Alessandro Manzoni, 9, San Giorgio su Legnano Prezzo base, 44.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 28 febbraio 2017, ore 17.30 Vendita con incanto Luogo della vendita Busto Arsizio 21052 via Lecadorna 7 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono, 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 374 del 2015, lotto unico Appartamento della superficie commerciale di 99,70 metri quadri posto al primo piano Inserito in edificio condominiale di quattro piani fuori terra oltre seminterrato di nove unità immobiliari oltre accessori Composto da cucina, soggiorno, due camere da letto, bagno, piccolo ripostiglio ed ingresso e disimpegno oltre a due balconi Costituisce pertinenza dell'unità immobiliare il vano di cantina posto al piano seminterrato Sito in via San Gerolamo Emiliani, 44, Legnano Prezzo base, 67.200 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 13 febbraio 2017, ore 11.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21.052 via vicinale del ponte 25 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 485 del 2015 Lotto unico Appartamento posto al piano quarto di fabbricato condominiale Composto da soggiorno, camera, cucina, bagno e piccolo ripostiglio Oltre a balcone, con annesso vano ripostiglio nel sottotetto Sito in via Cristoforo Colombo, 17, Rescaldina Prezzo base, 50.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 13 febbraio 2017, ore 17.00 Vendita con incanto Luogo della vendita Busto Arsizio 21052 via Lissoni 3 barra A Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 565 del 2015, lotto unico Appartamento ad uso abitazione posto al piano quinto di fabbricato in condominio Composto da soggiorno, due camere, cucina, doppi servizi, disimpegni e balconi Con annesso vano cantina al piano primo interrato Nonché box ad uso autorimesso a doppio sempre al pieni primo interrato Sito in Viale Stelvio, 169, Busto Arsizio Prezzo base, 124.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 13 febbraio 2017, ore 16.30 Vendita con incanto Luogo della vendita Busto Arsizio 21052 via Lissoni 3 barra A Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio Procedura esecutiva numero 602 del 2014 Lotto unico Intero edificio Anno di costruzione 1960 Composto da appartamento a piano rialzato Composto da quattro locali e servizi Oltre cantina e rustico a piano seminterrato Appartamento al piano primo Composto da quattro locali e servizi Box per auto a piano terra Laboratorio e cella frigorifera a piano terra Negozio con ufficio a piano terra Ricovero automezzi a piano terra Magazzino ricovero attrezzi Sito in via Filippo Meda 11, Busto Garolfo Prezzo base, 307.200 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 27 febbraio 2017, ore 12.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21.052 Viale Duca d'Aosta, 15 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono, 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio Procedura esecutiva numero 680 del 2013 Lotto unico Appartamento ad uso abitazione Posto al piano rialzato Composto da ingresso Tre vani Cucina Bagno Disimpegno e balcone ed annesso Vano di cantina a piano seminterrato Sito in via Trento 35, Magenta Prezzo base, 86.400 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 28 febbraio 2017, ore 15.30 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21.052 Viale Cadorna 7 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono, 03, 32, 33, 55, 10, 33, 20, 99 Tribunale di Busto Arsizio Procedura esecutiva numero 756 del 2013 Lotto unico Diritto di superficie per la quota di 1-1 Per 99 anni, di cui 68 restanti alla data di perizia Di deposito artigianale posto al piano terra della superficie commerciale di 592,60 con area esterna pertinenziale Il capannone è attualmente adibito a magazzino ortofrutticolo e a piccola produzione di cassette di legno per il trasporto della frutta e verdura All'interno, oltre al magazzino, sono presenti una cella fagorifero, un vano uso ufficio archivio e un WC con antibagno L'unità immobiliare è posta al piano terra stato occupativo, libero da persone Sito in via Romolo Murri, 3133, Magenta Prezzo base, 192.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 3 febbraio 2017, ore 12.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Busto Arsizio 21.052 Viale Duca d'Aosta 3, Piano Terzo Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03 32 33 55 10 33 20 99 Tribunale di Busto Arsizio, procedura esecutiva numero 880 del 2014 Lotto unico Appartamento della superficie commerciale di 90,10 m² situato al piano rialzato di un complesso condominiale denominato Residenza La Vigna con giardino pertinenziale di proprietà costituito da due locali, servizi, ripostiglio, disimpegno e balcone con annessi vano sgombero, lavanderia e cantina posti al piano seminterrato box singolo di Bito ad autorimessa posto al piano seminterrato, superficie commerciale m² 17. Sito in via Montegrappa, 82, San Giorgio su Legnano Prezzo base, 82.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 25 gennaio 2017, ore 12.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Gallarate 21013 via Pegoraro 18 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03 32 33 55 10 33 20 99 Tribunale di Busto Arsizio Procedura esecutiva numero 968 del 2014 Lotto unico Intero edificio plurifamiliare in corso di edificazione composto da 8 unità a destinazione residenziale con annesse cantinule, autorimesse e posti autoscoperti stato occupativo, libero da persone e cose Sito in via del Campaccio Angolo via Carlo Alberto dalla Chiesa, San Giorgio su Legnano Prezzo base, 592.000 euro Quota, piena proprietà Vendita senza incanto 23 febbraio 2017, ore 16.00 Vendita con incanto Luogo della vendita, Legnano 20.025 Corso Magenta 99 Per informazioni, chiama il custode giudiziario e prenota una visita G.I.V.G.S.R.L. di Varese Istituto Vendite Giudiziarie Telefono 03 32 33 55 10 33 20 99 Grazie a tutti Grazie a tutti